Obiettivo sicurezza Ingredienti e limiti microbiologici Per ogni ingrediente vengono proposti riferimenti agli aspetti merceologici, alle caratteristiche igienico-sanitarie, alle caratteristiche organolettiche, nonché all'imballaggio e al trasporto del prodotto esaminato. Sale comune Caratteristiche merceologiche Deve essere asciutto e assente di impurità, sassolini, insetti, ecc. La confezione non deve essere rotta, ma integra. Caratteristiche igienico-sanitarie Deve essere confezionato in stabilimento autorizzato a norma di legge. Caratteristiche organolettiche Colore Tipico Bianco Odore Nella norma Sapore Nella norma Imballaggio Imballaggio Confezione in originale e sigillata. Il materiale usato, cartone, deve essere a norma. Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto igienicamente idonei. Farina Caratteristiche merceologiche Farina Tipo 0 Tipo 00 O altro Caratteristiche igienico-sanitarie Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve e corpi estranei, peli, insetti, ecc. Imballaggio Confezione originale e sigillata Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto idonei a proteggere le confezioni da intemperie, umidità, parassiti. Ricotta Caratteristiche merceologiche Ricotta fresca vaccina oppure mista, prodotta utilizzando anche parti di latte o vino. Caratteristiche igienico-sanitarie La ricotta deve essere prodotta con latte proveniente da animali appartenenti ad aziende registrate e controllate dalle autorità sanitarie competenti. Limiti microbiologici Coliformi A 30 gradi centigradi Da 10 alla quinta UFC su G A 10 alla quarta UFC su G Escherichia coli Da 10 alla terza UFC su G A 10 alla seconda UFC su G Listeria monocitogenes Assenti in 25 grammi Staphylococcus aureus Da 10 alla terza UFC su G A 10 alla seconda UFC su G Salmonella SPP Assenti in 25 grammi Caratteristiche organolettiche Colore Biancolatte Non devono essere presenti colorazioni anomale, nerastre o azzurro-verdastre, sulla superficie e o all'interno del prodotto Odore Tipico di latte fresco Sapore Fresco e dolce Esente da amarone Imballaggio Confezioni originali sigillate Trasporto Con sistema refrigerato In modo che la temperatura interna non superi i 6 gradi centigradi Uova fresche con guscio Caratteristiche merceologiche Uova appartenenti alla categoria di qualità A Consegnate in imballaggi originali e sigillati e recanti le indicazioni a norma Limiti microbiologici Salmonella SPP Assente in 50 grammi di tuorlo Salmonella SPP Assente in 25 grammi di guscio Escherichia coli Assente in 10 millilitri di tuorlo Staphylococcus aureus Assente in 10 millilitri di tuorlo Caratteristiche organolettiche Guscio pulito Intatto Privo di incrinature Asciutto Albume chiaro Limpido Di consistenza gelatinosa non fluida Esente da corpi estranei di qualsiasi natura Esente da sapori e odori estranei indesiderabili Tuorlo compatto sferico non appiattito Membrana tesa e non raggrinzita Esente da sapori e odori estranei indesiderabili Trasporto Eseguito in veicoli coibentati in grado di mantenere una temperatura costante, comunque non superiore a 18 gradi centigradi Le uova di categoria A E che il guscio si presenti bene asciutto Conservazione A temperatura di refrigerazione, in posizione verticale con il polo acuto verso il basso, per non comprimere la camera d'aria È auspicabile che l'uovo venga utilizzato non in prossimità della data di scadenza, ovvero almeno 10 giorni prima di tale data Latte Caratteristiche merceologiche Latte vaccino che abbia subito un trattamento termico di risanamento Caratteristiche igienico-sanitarie Il latte deve provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e da animali che non presentino sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte che denotino uno stato sanitario generale buono e non evidenzino sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte Limiti microbiologici CBT inferiore a 50.000 Staphylococcus aureus inferiore a 100 Salmonella SPP assente in 25 grammi Listeria monocytogenes assente in 25 grammi Caratteristiche organolettiche Colore bianco-opalescente Odore lieve, gradevole e caratteristico Sapore leggermente dolce Se durante la bollitura si manifesta il processo di flocculazione, l'intero lotto dovrà essere respinto Imballaggio Prodotto in stabilimento autorizzato e in confezioni originali e sigillate Le confezioni devono essere integre al momento dell'acquisto o della consegna e, in caso contrario, devono essere respinte al fornitore Trasporto Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto idonei e refrigerati in caso di latte fresco Burro Caratteristiche merceologiche Il burro è il prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca o dal siero di latte di vacca Contenente una percentuale minima di grasso non inferiore all'80% Caratteristiche igienico-sanitarie L'aspetto e il colore devono essere uniformi sia sulla superficie che all'interno Privo di difetti che ne alterino odore, sapore, aspetto Ammuffimento, ossidazione Caratteristiche organolettiche Colore Paglierino naturale Odore Gradevole Sapore Delicato e dolciastro Se all'apertura della confezione il prodotto appare alterato e all'assaggio si avverte gusto di rancido, il prodotto va respinto Limiti microbiologici CBT inferiore a 10.000 Coliformi Inferiore a 25 Staphylococcus aureus Inferiore a 50 Escherichia coli Inferiore a 100 Muffe lieviti Inferiore a 100 Salmonella SPP Assente in 25 grammi Listeria monocitogenes Assente in 25 grammi Imballaggio Prodotto in stabilimento autorizzato e in confezioni originali e sigillate Le confezioni devono essere integre al momento dell'acquisto o della consegna e in caso contrario devono essere respinte al fornitore Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto idonei e refrigerati Zucchero Caratteristiche merceologiche Lo zucchero, bianco o raffinato, è il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, privo di umidità eccessiva e grumi Per semolato si intende il prodotto a media granulosità Caratteristiche igienico-sanitarie Non deve presentare impurità o residui di insetti Filth test Imballaggio Deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici e organolettici Le confezioni devono essere integre e a tenuta Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto idonei Miele Caratteristiche merceologiche Il miele è prodotto dalle api a partire dal nettare e dalla melata Caratteristiche organolettiche Il colore del miele può variare dal giallo paglierino, al giallo bruno, al giallo verde in conformità della sua provenienza botanica L'odore e il sapore sono connessi al tipo di nettare bottinato La densità è variabile, da sciropposa, al granulare, fino a cristallizzata in rapporto all'età del prodotto e dalla temperatura di conservazione dello stesso Caratteristiche igienico-sanitarie Il miele non deve presentare sapore e odori estranei Aver iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente Essere stato sottoposto a trattamento termico tale da inattivare parzialmente o completamente gli enzimi termolabili Presentare acidità modificata artificialmente Essere stato sottoposto a procedimenti di filtrazione che ne abbiano reso impossibile la determinazione dell'origine Il prodotto deve essere di annata Limiti microbiologici Muffe inferiore a 100 Imballaggio Le confezioni devono essere integre al momento dell'acquisto o della consegna e in caso contrario devono essere respinte al fornitore Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto idonei Cacao in polvere Caratteristiche merceologiche Il prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti Il tenore in sostanza grassa Burro di cacao Non deve essere inferiore al 20% Caratteristiche organolettiche Colore marrone scuro Sapore amaro E aroma intenso e caratteristico Caratteristiche igienico-sanitarie Non deve presentare impurità o residui di insetti Filth test Limiti microbiologici Aerobi mesofili totali inferiori a 10.000 Enterobacteriacee inferiore a 100 Escherichia coli assente in 25 grammi Muffe inferiore a 100 Imballaggio La confezione deve garantire un'idonea protezione del prodotto e alla consegna deve risultare integra, chiusa all'origine, senza segni di manomissione Trasporto Eseguito con mezzi di trasporto idonei Apaniamo il proc Weight Senseil Eseguito con mezzi di datho Olengo